Buongiorno e benvenuti. Ben trovati lunedì 26 marzo 2018, nuovo appuntamento, il primo della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani che come sempre si apre con le prime pagine dei giornali abruzzesi che troverete oggi in Edicola. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, si parla della Camera di Commercio Pescara Chieti perché c'è la giunta, oggi la nomina, vedete il titolo di apertura del nuovo esecutivo con 10 imprenditori. Andiamo a centro pagina come ogni lunedì, grande spazio sui quotidiani alle vicende sportive, al calcio ma non solo, in questo caso però si parla di calcio del Pescara. Pescara sempre più a fondo, vedete questa immagine emblematica di Pettinari a ridosso del portiere dell'Empoli Gabriel. Gabriel, ieri Pescara ha battuto per 1-0 dalla formazione toscana e proprio Pettinari ha fallito sul finire del primo tempo. Un calcio di rigore, tifosi che hanno contestato la squadra, squadra che nelle ultime quattro giornate nella gestione Epifani ha conquistato appena un punto. Vediamo anche gli altri titoli, sempre dalla prima pagina del centro, edizione di Pescara. Delitto Neri, corteo in centro, ieri sera per Alessandro e per chiedere la verità sull'omicidio di Alessandro Neri. Poi Pescara, comune al voto per rinnovare i sindacati. E poi vedete più in basso quest'altro titolo importante, Corso Vittorio. Da questa sera tornano le auto dalle 21. Ci sarà la riapertura dell'importante arteria cittadina. E poi in alto altre notizie, caldaie e finestre, gli sconti previsti dal bonus energia, che riguardano anche ovviamente le famiglie abruzzesi. E poi il calcio, il torneo delle regioni. La Toscana vince in Abruzzo con il gol del giovane Renzi. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti del centro. Anche in questo caso il titolo per la nuova giunta della Camera di Commercio Pescara Chieti. E poi il teatino Mammarella, l'eroe della Coppa Italia. Questo è un titolo importante che riguarda il calcio a 5, perché l'Acqua e Sapone ha vinto la Coppa Italia di calcio a 5, battendo a Pesaro in finale la Luparense. Poi vediamo insieme anche gli altri titoli. Lanciano, il comune vota la tassa di soggiorno. Vasto Pasqua Sicura, ecco il piano rifiuti. E poi in basso Chieti via Crucis per le vittime di Rigopiano. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Il titolo di apertura riguarda una notizia tragica. Albergatore trovato morto a 39 anni, Roseto. L'imprenditore Magliano Stewart era nel suo resort Villa Rosella. E poi lo sport, la domenica dello sport. Roseto e Teramo vittorie che avvicinano alla salvezza. Roseto batte in casa 104 a 98 Mantua. Il Teramo regola per 1 a 0 la Triestina, grazie ad un gol di San Domenico. Un altro titolo di sport che non riguarda l'Abruzzo, ma che comunque farà felici tutti gli abruzzesi. E non solo, festa Ferrari in Australia, a trionfo di Vettel, Raikkonen terzo. Vediamo anche le altre notizie. Contrabbando, Giuliese bloccato in Spagna da nove mesi. Poi le elezioni amministrative di Sabatino. Corriamo verso il Baratro, questo è il grido di allarme del presidente della provincia. Alba Adriatica, nuovo bando per ricostruire la scuola media. Vediamo anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Arriva il primo mercato europeo, L'Aquila a Bancarelle da Spagna e Francia, per tre giorni in Piazza Duomo. E poi il titolo con corredo di foto che riguarda lo sport. Non poteva che riguardare il derby di Serie D, giocato ieri alla Gran Sasso d'Italia. Pari tra L'Aquila e Avezzano. Derby bello con tante occasioni dall'una e dall'altra parte. Le cronache, tra sacco, siamo nella Marsica, coltellano un giovane, due arresti. E poi ancora nella Marsica, Tagliacozzo e Scurcola. Bilanci comunali, 200 mila euro con l'autovelox. E poi Castelvecchio su Beco, il prete dice no al processione del Cristo morto. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vedete il titolo in alto, Pescara altro K.O. in casa, fischi dei tifosi. Pettinari sbaglia un calcio di rigore. Pescara davvero ai margini a questo punto, molto vicino alla zona play-out. Poi altri titoli di sport, Serie C. Teramo si sblocca al Bonolis e batte la Triestina. E poi vedete quest'altro titolo, Acqua e Sapone, conquista la Coppa Italia a Pesaro. Vediamo a centro pagina, casi di mobbing all'ospedale Teramo, la denuncia dei sindacati, un infermiere su quattro, vittima di vessazioni, una dipendente ha già vinto la causa, possibili altre azioni giudiziarie contro la ASL. E poi vedete la foto, il mistero del ragazzo ucciso a colpi di pistola a Pescara, la morte di Alessandro Neri. Ieri sera in centro, in Corso Umberto, il corteo con la scritta, vogliamo la verità. E poi vedete il titolo di spalla del lunedì, la modernità italiana, tanti abruzzesi tra i costruttori. In questo libro, una raccolta di saggi, curata da Masciangeli e De Leonardis, riscatta il senso di marginalità. E poi in basso l'Aquila contro il bilancio, 200 emendamenti, questo è il titolo che riguarda la cronaca dell'Aquila. In alto ancora notizie dalla nostra regione, sempre all'Aquila, controlli del NAS, trovate irregolarità in un istituto, poi trasacco, botte e coltellate in un bar della piazza, due in manette. E poi Chieti, 36 mila ingiunzioni per i furbetti delle tasse. Abbiamo esaurito le prime pagine dei quotidiani regionali, andiamo a vedere i titoli dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, però prima di leggere insieme i titoli dei quotidiani nazionali, dobbiamo darvi una notizia che non è sui giornali di oggi, una notizia di un grave lutto nel mondo dello spettacolo, perché è deceduto questa notte Fabrizio Frizzi all'età di 60 anni. Grazie per tutto l'amore che ci hai donato, queste le parole della moglie Carlotta, del fratello Fabio e dei familiari che hanno annunciato la scomparsa di Fabrizio Frizzi, deceduto per una emoragia celebrale nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Era rientrato a dicembre scorso in televisione dopo il marore che lo aveva colpito nell'ottombre del 2017. Lo scorso 5 febbraio Frizzi aveva compiuto 60 anni, non è ancora finita, disse, sperava in una guarigione, sarebbe voluto diventare testimone della ricerca. Dunque grave, gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana con la morte la notte scorsa a Roma di Fabrizio Frizzi. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera, si parla ovviamente di politica dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Berlusconi, Salvini, Premier, il presidente di Forza Italia, Matteo Edimaio da soli, un icocervo, dice il presidente di Forza Italia. E poi il leader della Lega tocca al centrodestra e Grillo lo elogia e di parola. Dunque si potrebbe andare verso un governo Lega, centrodestra, Movimento 5 Stelle. Poteva sembrare fantascienza fino a qualche tempo fa, invece le cose potrebbero cambiare. Vedete a centropagina, siamo in Spagna, in Catalogna, il capo indipendentista preso in Germania, voci di richiesta d'asilo. Si parla di Puendemont arrestato, scontri dopo questa notizia a Barcellona. Vediamo anche Repubblica, Lega, Movimento 5 Stelle, duello sul Premier. Le pensioni sono il primo scoglio. E poi anche su Repubblica, Puendemont arrestato in Germania, rivolta a Barcellona. Vediamo anche la prima pagina del fatto. Il Colle, governo a giugno o voto e Fico parte dal taglio ai vitalizi. Fico, neopresidente della Camera. Vediamo il messaggero nazionale, la prima pagina, Salvini al governo anche con il Movimento 5 Stelle, ricucire l'Italia. Partendo dal sud, dice il leader della Lega. Poi vedete Puendemont fermato in Germania, a Barcellona il fronte si spacca. E poi Roma, allerta per la rete Isis e caccia al tunisino sospetto. Vediamo anche il mattino di Napoli, Premier a noi, tratto con il Movimento 5 Stelle. Ritroviamo questa notizia sul quotidiano campano come sugli altri giornali. Intervista a Salvini, serve una scossa per il sud. Ministeri anche a Napoli. E poi il caso del leader catalano, Puendemont fermato a Berlino, scontri e feriti. A Barcellona. Vediamo anche Libero, saltano flat tax al 15% della Lega e reddito di cittadinanza di Movimento 5 Stelle. Centrodestra e Grillini mediano per formare l'esecutivo. E poi un'altra notizia di politica, questa volta interna al centrodestra. Vedete questo titolo. Pulizie di Pasqua in casa Berlusconi. Capigruppo Brunetta e Romani saranno sostituiti. Pronte Gelmini e Bernini. Dunque due donne potrebbero essere al vertice dei gruppi di Camera e Senato. Per quanto riguarda Forza Italia. Siamo al sole 24 ore. Il rischio dei rincari IVA su centro-nord e single. L'aumento automatico può costare 317 euro a famiglia. E poi vediamo la stampa. La stampa di Torino. Il carcere. Il sogno di Barcellona. Questo è il titolo di apertura. Azione congiunta. Madrid-Berlino arrestato in Germania. Il capo indipendentista Puendemont. E ci sono le proteste. Scoppiano le proteste a Barcellona. E poi la politica. Movimento 5 Stelle e Lega. Più vicini su tasse e reddito. Vedete in basso. Capolavoro Ferrari. Vettel. Trionfa. In Australia. Il tempo di Roma. Lega Italia. Si Salvini. Chi può. Caos centrodestra. Il caso Camere scatena il rompete le righe. In Forza Italia. Via i capigruppo. Abbiamo visto questa notizia anche da libero. Il secolo d'Italia. Premier al centrodestra. Questo è il titolo che è corredato con la foto di Salvini. Perché nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica dovrà affidare l'incarico per la formazione di un nuovo governo. E potrebbe essere Salvini incaricato proprio di provare a formare un nuovo governo. Siamo al secolo XIX. Movimento 5 Stelle e Lega prove di governo. Ne parlavamo qualche istante fa. I due partiti cercano l'accordo su tasse e reddito. Tensioni in Forza Italia. E poi vedete a centropagina. Puindemont arrestato. Scontri a Barcellona. Il leader catalano fermato in Germania. Scatena la rivolta. 52 feriti a Barcellona. Questo era l'ultimo quotidiano preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Ripartiamo dal centro. Come risparmiare? Si parla di finestre caldaie. Maxi sconti fiscali che interessano un po' tutte le famiglie abruzzesi. Fino al 31 dicembre del 2018 si può infatti beneficiare delle detrazioni. Per le abitazioni dal 50 al 65%. Per i condomini sono di più. E poi andiamo a vedere. Dalla parte del cittadino. Bollette raccolta di firme per dire stop alle tasse. Famiglie costrette a pagare quote fisse che non centrano nulla con i consumi. Feder Consumatori Abruzzo lancia una petizione. Ecco come partecipare. Siamo alle pagine di cronaca nazionale. Abbiamo già visto i titoli che riguardano la politica. Il fermo in Germania del leader catalano Puigdemont. Ma noi siamo alle cronache dalle nostre province. Come sempre ogni lunedì poi daremo nella seconda parte ampio spazio al calcio. Tra l'altro ieri si sono giocate di domenica anche le partite di Serie B e di Serie C. Dunque avremo diversi servizi da proporvi. Intanto siamo alla cronaca di Pescara. Comune in 700. Vedete alle urne per rinnovare i sindacati. Elezioni dell'RSU. Dal 17 al 19 aprile si vota per scegliere 15 rappresentanti. Sono in corsa 5 liste. Le vedete la CGL, la CISL, la UIL, il DICAP e il CSA. E poi un'altra notizia importante che riguarda Pescara. La circolazione stradale e la mobilità nel capoluogo di provincia. Corso Vittorio riapre alle auto. Per ora resta però il senso unico. Andiamo a vedere anche la seconda pagina che riguarda la cronaca di Pescara. Chiedo la verità per la città di Pescara. Nuovo appello di Laura Lamaletto durante il corteo per il figlio Alessandro. Non si muore così in nessun posto al mondo. Ha detto la madre di Alessandro nel corso di questa fiaccolata, di questa manifestazione che si è tenuta ieri a Pescara. Se la regia è pronta possiamo andare a vedere le immagini di questa fiaccolata. Eravamo presenti ieri sera in Corso Umberto in piazzale della vecchia stazione a Pescara per seguire proprio questa fiaccolata per chiedere la verità sulla morte di Alessandro Neri. Possiamo far partire le immagini. Seguitemi perché la voglio la verità insieme a voi. Seguite Alessandro, non me e loro. Che questo paese dia più occasioni a questi ragazzi giovani. Perché i miei figli sono fuori dall'Italia anche perché non c'è occasione di lavoro. E questa è un'altra cosa che vorrei mettere veramente sottolineare. Loro hanno bisogno di lavoro e questo paese ha bisogno di futuro. E loro sono il futuro. Questo è un paese di persone vecchie. Tutti se ne vanno. Io ho tre figli e ce li ho fuori dall'Italia. Ecco abbiamo visto, abbiamo ascoltato le parole, lo sfogo di Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri. Avete sentito, anche se c'erano in quel momento, gli applausi delle persone presenti. Abbiamo ascoltato le parole della madre di Alessandro. Ha detto che questo è un paese di persone vecchie, non c'è lavoro. I miei tre figli sono stati costretti ad andare fuori dall'Italia per trovare lavoro. Questo governo e i nostri politici devono dare il lavoro ai nostri giovani. Perché i nostri giovani rappresentano il futuro del nostro paese. Le parole più importanti dette proprio ieri sera dalla madre di Alessandro Neri, Laura Lamaletto, proprio al termine della fiaccolata, della manifestazione del corteo che era partito intorno alle 19. Vedete, era ancora giorno quando è partita questa fiaccolata dal piazzale della vecchia stazione per chiedere verità per Alessandro Neri e questa fiaccolata, questa cerimonia, se così la vogliamo chiamare, che ha attraversato poi questo corteo di circa 200 persone, che ha attraversato tutto il corso principale di Pescara, Corso Umberto, per arrivare in piazza Primo Maggio. Poi c'è stato il percorso a ritroso per ritrovarsi dinanzi la vecchia locomotiva, sempre in piazzale della stazione a Pescara. Vedete lo stricione, l'unico stricione, verità per Ale. E in prima fila c'erano ovviamente i genitori di Alessandro Neri, la madre, Laura Lamaletto, il padre. Vedete la madre, proprio inquadrata in quest'istante, proprio in prima fila con le persone che hanno partecipato a questa fiaccolata e che esponevano questi cartelli con la scritta verità per Ale. Poi abbiamo ascoltato lo sfogo, il grido di dolore di questa madre che si è rivolta proprio ai nostri politici e governanti chiedendo lavoro per i giovani nel nostro paese, lavoro che non c'è, tanti giovani, come anche i figli di Laura Lamaletto sono stati costretti ad andare all'estero per trovare, per cercare un lavoro. Vedete, abbiamo visto anche il passaggio dello stricione nei pressi della nave di Cascella. Qui c'è stato un altro momento di raccoglimento sotto i portici di piazza a Salotto a Pescara. Poi il corteo è tornato e è ritornato verso il piazzale della Repubblica, il piazzale della vecchia stazione di Pescara. Vi abbiamo dunque proposto queste immagini che abbiamo realizzato nella serata di ieri. Abbiamo ascoltato anche la madre di Alessandro Neri, Laura Lamaletto. Torniamo alla cronaca di Pescara, rubata la borsa ad un medico, ladri acciuffati in pochi minuti, accaduto nella serata di sabato a Pescara. Il furto si era consumato in Viale e Pindaro. Andiamo a vedere anche un'altra pagina della cronaca di Pescara. Cimitero, pavimenti e croci danneggiati. Scoppia la protesta. E poi Di Pietrantonio, segretario cittadino del PD, il distretto sanitario Pescara Sud ridurrà i tempi per le visite, ha detto Di Pietrantonio. E poi siamo a Montesilvano, l'area metropolitana, inquilini pronti, gli aiuti ai morosi per necessità. Il comune eroga un contributo a chi ha ricevuto lo sfratto. Interessate le famiglie con bassi redditi le domande da oggi fino al 13 aprile. E da Montesilvano ci spostiamo dall'altra parte dell'area metropolitana. Siamo a Francavilla, dunque a sud di Pescara. Buoni spesa per la Pasqua, ultimo giorno. Per richiederli, vedete nella foto, il sindaco di Francavilla al mare, Antonio Luciani. E poi più in basso, siamo in Val Pescara, a Scafalo. Stato regala dieci beni al comune. Il demanio cede anche il parco di Villa Bianca. E le aree dell'ex Sama, firmato l'atto di trasferimento proprio al comune, all'amministrazione comunale di Scafa. Siamo alla pagina di Chieti del centro. Ritroviamo l'argomento principale delle prime pagine del centro di Pescara e Chieti. L'ente unico, parliamo ovviamente della Camera di Commercio di Pescara. Vedete, ecco la nuova giunta. Oggi la scelta dei dieci componenti entrano Marramiero, Legnini, Scastiglia e Scurti, tre rappresentanti degli industriali, tre degli esercenti e quattro di artigianato e agricoltura. Possiamo andare a vedere, dunque, quali sono i nuovi rappresentanti della giunta della Camera di Commercio di Pescara. Vedete in basso il presidente Mauro Angelucci, poi Enrico Marramiero, Giovanni Scurti, Antonella Marrollo, Lido Legnini, Gianni Tauci, Letizia Scastiglia, Carmine Salce, Franco Danelli, Nicola Antonio Sicchetti e Giulio Federici. Questi i nuovi rappresentanti della giunta della Camera di Commercio di Pescara. Andiamo a vedere anche l'altra pagina che riguarda Camera di Commercio di Pescara Chieti, l'altra pagina che riguarda il capoluogo teatino, via Crucis per Rigopiano, iniziata la settimana Santa che culminerà domenica prossima con la Pasqua. Venerdì ci sarà però la via Crucis tra le più seguite, quella di Chieti, una via Crucis per Rigopiano, verità e più sicurezza. E poi in basso da Chieti ci spostiamo ad Ortona, porto ora a rischio la nomina di Coletti, chiesti pareri sull'incarico all'autorità di sistema di Ancona, l'ex consigliere dice aspetto la decisione. Siamo alla pagina dell'Aquila del Quotidiano Il Centro, in Piazza Duomo a maggio il primo mercato europeo enogastronomia e artigianato con espositori provenienti da Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Polonia. E poi di spalla masterclass di cucina italiana a Cipro, chef Zonfa in cattedra all'Università di Nicosia. In basso dall'Aquila ci spostiamo ad Avezzano, dunque nella Marsica, la cronaca amministrativa in questo caso. De Angelis, il sindaco, fa i conti con gli alleati storici, nuova giunta, frattura per il caso Domenici e c'è da verificare la posizione di Pierleoni. Lasciamo la cronaca della provincia dell'Aquila e anzi no, perché siamo alla cronaca ancora dalla provincia dell'Aquila, in questo caso ancora dalla Marsica. Notte di terrore a Trasacco, ha coltellato un giovane, due arresti, in c'è la coppia di marocchini, entrambi ubriachi, litigano tra di loro e danneggiano un bar dopo aver ferito un cliente. E in basso a Castelvecchio, su Beco, il sacerdote dice no alla processione, padre Massimiliano, clima teso, così a rischio la mia sicurezza personale. Siamo a Teramo, tragedia in provincia di Teramo, a Roseto degli Abruzzi, trovato morto albergatore di 39 anni, Giacomo Edoardo Malignano Stewart, era nel resort Villa Rosella, dove abitava. Si sospetta l'overdose, da come leggiamo da questo titolo, disposta dalla magistratura l'autopsia per chiarire le cause del decesso. In basso, Palabianchi e Palas Capriano, siamo a Teramo, nuove gestioni, il commissario Pizzi dà il via libera alla procedura per il riaffidamento dei due impianti. Sportivi, ancora a Teramo, elezioni nel capoluogo aprutino di Sabatino, corriamo verso il baratro, il grido di allarme nel PD del presidente della provincia di Teramo, Renzo di Sabatino. E poi d'Alberto, primarie possibili solo se c'è un confronto chiaro, lo dice il candidato dell'Alleanza per Teramo. E poi la cronaca, siamo a Giulianova, Giuliesi è bloccato in Spagna da nove mesi, Corrado Dall'Olio, marittimo di 70 anni, accusato di contrabbando e trattenuto in attesa del processo. Siamo alle pagine dello sport, dobbiamo andare a vedere però le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero, la falsa tranquillità di Pescara, voglio la verità per Alessandro. Torniamo sulla fiaccolata di ieri sera per la scomparsa e l'omicidio di Alessandro Neri, vi abbiamo proposto il servizio, le immagini e le dichiarazioni della madre di Alessandro Laura Lamaletto. E poi la commozione in città a Pescara per la scomparsa del colonnello Gianluca Di Niro, che per pochi mesi era stato il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Pescara, l'ufficiale colpito da un malore, era stato costretto a lasciare l'incarico, poi la dura lotta combattuta con coraggio contro la malattia, fino a sabato sera, quando il colonnello Gianluca Di Niro è scomparso. A soli 51 anni, vedete nella foto l'ufficiale che, come vi dicevo, per alcuni mesi aveva comandato il comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Pescara e si era subito fatto apprezzare, soprattutto per le sue doti umane. La mala di Pasqua, banda della Borsa in azione alla Simpli, manette per rapina, due sulmonesi a Pescara. Siamo all'Aquila, il bilancio, si annuncia una valanga di emendamenti, 200 per l'approvazione del bilancio, l'opposizione almeno parte di essa, attenta la strada dell'ostruzionismo, si cerca di ripristinare l'Urban Center, che sembra miseramente naufragato. E poi il CAI volta pagina, Brancadoro eletto nuovo presidente, vedete il titolo di fianco, e poi in basso San Demetrio, farmaci scaduti, Blitz e Del Nass, in una casa famiglia. Andiamo ancora avanti, pagina di Avezzano e Sulmona, partiamo da Avezzano, De Angelis ora spuntano i malpancisti, arriva qualche critica, dopo il trionfale annuncio di sabato, sulla composizione della nuova giunta comunale. Ancora Avezzano, raid in centro, due in carcere, poi Sulmona, ormai pronto per il parco giochi di via Togliatti. In basso, ancora Sulmona, colle delle vacche, discarica a cielo aperto, e poi trasacco, abbiamo visto anche questa notizia dal centro, botte e coltelli in un bar della piazza. Siamo alla pagina di Chieti, sempre dalle colonne del messaggero, tasse non pagate, partono, 36 mila ingiunzioni e solleciti, lotta all'evasione, ecco il maxipiano della Teate Servizi, contro i furbetti. Da Chieti ci spostiamo a Vasto, fondi per la viabilità, scontro Pupillo, presidente della provincia di Chieti, e alcuni comuni, soprattutto del Vastese. In basso siamo a Lanciano, fiera dell'agricoltura, ok le spine dei parcheggi, infine Ortona, caos acqua in via del porto, la Sasi realizza la nuova condotta. Siamo alla pagina di Teramo, del messaggero, mobbing all'ospedale Mazzini, vittima un infermiere su quattro, il sindacato dice, perseguitate soprattutto le donne, il 27% subisce comportamenti ostili. E poi, bimba malata, il pediatra non la visita, ha sbagliato. e poi, cyberbullismo, domani il track della polizia postale, in città a Teramo, e poi, a fondo pagina, Giulianova, al funerale, cade nella buca, 60 mila euro di danni, ad un'anziana di Mosciano. Siamo arrivati alle pagine dello sport, abbiamo il tempo, solo prima di fermarci per qualche istante, di vedere il titolo, che riguarda il Pescara, poi quando torneremo in studio, vedremo anche il servizio, le immagini sulla sconfitta dei Biancazzurri, Pescara a K.O. ora è allarme, la capolista infligge la terza sconfitta consecutiva all'Adriatico, ai Biancazzurri, la classifica preoccupa, decide un gol dell'ex Biancazzurro, ed ex Teramo, Alfredo Donnarumma, Pettinari sbaglia un rigore, a fine partita scoppia la contestazione della tifoseria, e poi un'altra notizia, il centravanti Pettinari viene sostituito nella ripresa, e non gradisce platealmente la decisione, screzzi anche tra Fornasier ed Epifani, Epifani che proprio a tal proposito, dopo questi episodi di nervosismo, dice remare tutti dalla stessa parte, ma ieri c'è stato molto nervosismo in Casa Biancazzurra, per questa sconfitta, vedete anche in basso le dichiarazioni di altri due calciatori del Pescara, Coulibaly e Macin, non è ancora finita, allora possiamo fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6, interamente dedicata allo sport, inizieremo proprio con il servizio sulla sconfitta casalinga del Pescara, con l'Empoli. Siamo di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, avevamo già aperto il capitolo Pescara, guardando e leggendo insieme i titoli del messaggero sulla sconfitta dei Biancazzurri con la capolista Empoli, siamo al centro, Pescara affonda tra liti e caos, vedete la foto con il corredo di titoli, vediamo qualche pagina di Sport Nazionale prima di concentrarci sul Pescara, la Ferrari spegne il sorriso di Hamilton, il Cavallino comincia alla grande, la stagione vince Vettel che sfrutta una virtual safety car, terzo Raikkonen, e poi a Wembley sarà un'Italia linea verde, la squadra di Di Biagio pensa alla gara con l'Inghilterra, e poi ecco qui la prima pagina dedicata al Pescara, del fino che sprofonda un gol dell'ex Donnarumma, lancia la capolista, il Pescara non sfrutta nemmeno i regali, l'Empoli vince, concede un rigore fallito da Pettinari, e altre occasioni vanificate dalla giornata storta di Biancazzurri, sempre più in caduta libera, Epifani litiga con Fornasiere e Pettinari, parlavamo prima infatti del nervosismo palesato ieri, chi non si allinea è fuori dal progetto, potrebbero esserci dei provvedimenti disciplinari della società, l'indirizzo dei due calciatori, e poi immagino un pareggio sarebbe stato più giusto, presto ci tireremo fuori dai guai, dice l'ex giocatore del Brescia, e tra l'altro giovedì prossimo ci sarà una gara fondamentale, fondamentale, importantissima per il Pescara, contro le rondinelle al Rigamonti, sarà una partita davvero decisiva per il Pescara, che non potrà assolutamente fallire l'appuntamento, con un risultato positivo, per non sprofondare ancora di più in classifica, vedete Pettinari 11 metri di delusione, le pagelle del Pescara, Fiorillo 6, Balzano 5, 5 Fornasiere, 5 Gravione, 6 Coda, 5 e mezzo Perrotta, 6 Carraro, 5 e mezzo Crescenzi, 6 Coulibaly, Brugman 5 e mezzo, 5 Macin, 6 Mancuso, 4 Pettinari, 5 e mezzo Bunino, vediamo anche gli altri risultati, Cisena Perugia 1 a 1, Venezia Cittadella 2 a 1, Palermo Carpi 4 a 0, Parma Foggia 3 a 1, Provercelli Avelino 0 a 0, Salernitana Novara 1 a 0, Ternana Frosinone 0 a 0, Cremonese Virtus Centella 1 a 0, il Pescara in classifica e a tre punti dalla zona play out, parla anche il presidente del Pescara Sebastiani che dice non giochiamo mai in casa, Pescara il pubblico aiuta la squadra solo quando vince, abbiamo tenuto testa all'Empoli, il risultato è bugiardo e poi Coulibaly che si affida al cielo e Dio che decide, ieri ha deciso invece un gol di Donnarumma, possiamo andare a vedere il servizio sulla vittoria dell'Empoli allo stadio Adriatico. Quella dell'Adriatico sta diventando una vera e propria maledizione per il Pescara che dopo i K.O. Casalinghi con Parma e Carpi resta a mani vuote anche nella gara con la capolista Empoli a cui basta e avanza una rete dell'ex Donnarumma per incamerare i tre punti, aggravando così la crisi del Delfino. Rispetto alla gara di Avelino nel suo 3-5-2, Pifani conferma la squadra di domenica scorsa per 10 undicesimi con Macin al posto del nazionale Valzania, i tifosi rispondono in maniera tiepida a poco più di 6.000 persone sugli spalti dell'Adriatico. Con la direzione arbitrale affidata a Piccinini di Forli si parte con l'infortunio al sesto di Krunic sostituito da Brighi. I primi minuti vedono tanto equilibrio con le due squadre che premono ma senza scoprirsi. I biancazzurri devono fare i conti con il palleggio ed il possesso palla dell'Empoli che produce al diciannovesimo la rete ospite con un errore di Fornasiere e compagni che respingono corto su conclusione di Brighi e con la palla che termina a Caputo che serve Donnarumma che a due passi da Fiorillo non sbaglia per il vantaggio toscano. Ancora una volta il Delfino subisce gol al primo a fondo avversario, la reazione del Pescara latita e con i mugugni dei tifosi pescaresi sugli spalti sempre più assordanti. Al trentunesimo lampo biancazzurro e palla in area in polese per Mamadou Coulibaly che colpisce in pieno il palo non riuscendo a segnare un gol piuttosto semplice. L'ultimissima parte della prima frazione regala però al quarantunesimo la più ghiotta delle opportunità per i leppari e i biancazzurri con il rigore fischiato da Piccinini per il fallo di Gabriel Summancuso lanciato a rete. Dalla dischetto però pettinare il calcio a malissimo permettendo all'estremo ospite una parata molto facile. Per l'attaccante abruzzese resta il digiuno di reti ormai risalente all'8 dicembre dello scorso anno. Il secondo tempo vede Gravioni in campo al posto di Fornasier che aveva litigato precedentemente con il tecnico biancazzurro. Pescara che cerca di spingere ma che rischia al quarto quando Pasquale su punizione manda la palla di pochissimo sopra la traversa. All'ottavo caputo in area biancazzurra fallisce il 2-0 scaricando sull'esterno della rete. Epifani cambia ancora giocando la carta Bonino al posto di un pettinare irriconoscibile. La gara vede il solito Pescara disordinato e confusionario e preda di un eccessivo nervosismo. I minuti passano con Lempoli che va vicino ancora al raddoppio e con Fiorillo che riesce comunque a tenere inviolata la sua porta. Il tecnico pescarese gioca poi tutto per tutto andando in campo anche Carraro per Perrotta e con il Pescara che si schiera in campo con il modulo a rombo e con il 4-3-1-2. I biancazzurri cercano di accelerare e costringere Lempoli nella propria metà campo con Brugman che al 29esimo fallisce il pari tirando alle stelle dall'interno dell'area empolese. Per il Pescara è ancora un boccone amaro in vista della gara di giovedì prossimo al Rigamonti di Brescia dove mai come questa volta sarà vietato fallire. Per il Pescara sarà davvero una partita fondamentale quella del Rigamonti che vi racconteremo come sempre in diretta anche dallo stadio della città Lombarda. Giovedì sarà una giornata importante perché ci saranno anche le gare di Serie D dunque un pomeriggio in diretta sulla nostra rete proprio dalle 14.50 fino a nottefonda è il caso di dire perché le 20.30 giocherà appunto il Pescara a Brescia. Noi siamo però alla Serie C con il Teramo, una bella notizia finalmente per i biancorossi anche al Bonolis. Teramo che strappa tre punti preziosi grazie ad una rete di San Domenico. Vediamo anche gli altri risultati. Fermana, Ferrapi, Salò 1-1, Mestre Padova 0-0, Pordenone che a suon di gol batte la Reggiana 4-3, Ravenna Gubbio 1-0, Renate Vicenza 2-0, Sant'Arcangelo Fano 1-1, Sud Tirol, San Benedettese 1-1, Palladini al 91esimo risultato voluto e questo lo spirito giusto. Complimenti alla squadra da parte del tecnico biancorosso e poi la felicità vedete in basso di San Domenico. Felice per la vittoria, il match winner dedica la rete al papà scomparso e dice pensiamo a Gubbio, gara che si giocherà sabato in Terra Umbra. Ma noi andiamo a vedere il servizio sulla vittoria del Teramo con la Triestina, servizio curato da Ania Cantagalli. Finalmente il Teramo può festeggiare anche al Bonolis. Contro la Triestina arriva la prima vittoria del nuovo anno, 1-0 grazie alla rete decisiva nel primo tempo di San Domenico. Palladini torna al 3-4-3 e lancia di nuovo titolare proprio l'ex L'Aquila, con Gondò e Bacio Terracino a completare l'attacco, mentre Varas si siede in panchina per vedere Ventola agire sulla fascia sinistra del centrocampo. Triestina che vara invece un 4-2-4 con Petrella e Mensa a rifornire sulle fasce le punte Armà e Pozbon. È un Teramo che nel corso della gara lascia il possesso palla agli avversari e prova di conseguenza ad impostare la partita sulle ripartenze. La mossa si rivelerà azzeccata perché al quarto d'ora Gondò serve sulla corsa Bacio Terracino. L'assist conseguente dell'ex Lumezzane per San Domenico premia proprio l'attaccante Biancorosso che sigla la sua seconda rete stagionale e porta avanti il Teramo. La Triestina sarà pericolosa nel corso della prima frazione solo con un calcio di punizione dell'ex Petrella che finisce di poco a lato. Per il resto Biancorossi sempre molto attenti in fase di non possesso, con Sales e Graziano i più consistenti nel fermare gli alabardati. Anche Ventola ci proverà da calcio piazzato ma senza fortuna. La ripresa si apre con un tentativo di Pozzebon su cui calore si fa trovare pronto ma la Triestina spinge il Teramo a rintanarsi nella propria metà campo facendo notevole fatica ad uscire. Per avviare a queste difficoltà Paladini cambia gli esterni di attacco chiamando fuori San Domenico e Bacio Terracino e facendo entrare Tulli e Varas. Qualcosa effettivamente cambia e dal ventesimo Tulli prova in bello stile a liberarsi e ad affermare la bocca nera ma il tiro che ne esce è troppo debole. Gondò lascia il campo prima della mezz'ora tra gli applausi del Bonolis che ne premiano le sportellate in avanti ed il merito di aver fatto partire l'azione del gol. E' ancora Pozzebon a provarci alla mezz'ora con un pallone che finisce di pochissimo a lato e con speranza fondamentale due minuti più tardi nel respingere un tentativo al volo in area di Armà. Graziano chiede il cambio per Crampi, Paladini manda in campo Ilari e passa al 3-5-2. Il finale non offre occasioni da gol ma il Teramo perde Tulli in vista dell'importante trasferta di Gubbio in programma sabato prossimo, espulso l'attaccante insieme a Hidalgo e Baic al termine di una rissa che parte in prossimità del centrocampo. Per i biancorossi arrivano comunque tre punti fondamentali in ottica salvezza con prestazione solida da confermare sabato prossimo quando mancherà anche Sales per squalifica. Abbiamo visto dunque il servizio sulla vittoria del Termo, vediamo anche il titolo relativo sul successo dei biancorossi contro i Giuliani sul messaggero, Teramo vince, gioia in casa e più ossigeno. Paladini faccio i complimenti a tutti, San Domenico concreti e determinati. Poi apriamo a questo punto la pagina della Serie D, subito il titolo che riguarda il San Nicolò, capò Casalingo dal Re Canatese, ora per la salvezza è più dura. Ma quella di ieri è stata la giornata soprattutto del derby fra l'Aquila e Vezzano, si è giocato anche un altro derby sicuramente meno sentito al Valle Anzuca tra Francavilla e Pineto. Derby ieri invece al Gran Sasso d'Italia per cuori forti, pari e gol falliti, pali, salvataggi sulla linea. Davvero 90 minuti emozionanti in questa partita disputata di fronte a oltre mille spettatori. Giampaolo soddisfatto, proprio una bella partita. Battistini Amaro, siamo poco cinici. Il tecnico Aquilano che ha parlato della partita proprio con l'Avezzano, ha parlato un po' con l'Amaro in bocca per soprattutto un doppio palo colpito dalla sua squadra nella ripresa. Vediamo anche come il centro commenta questa gara, questo derby. L'Aquila, pari e pali con l'Avezzano, bianco-verdi avanti con Cerone, Iberi porta in gara il rosso-bru fermati per tre volte dai legni. Come vi dicevo, Battistini alla mossa a Fabrizi, sfiorato un gol da favola. Paris, il patron dell'Avezzano al novantunesimo, ripescaggio e l'anno buono, conferma il presidente dell'Avezzano il suo obiettivo. Siamo pronti per la Serie C e poi il tecnico bianco-verde Federico Giampaolo, una sfida senza risparmio. Davvero una bella partita quella giocata ieri tra l'Aquil e l'Avezzano con tanti tifosi dall'una e dall'altra parte. Fortunatamente una sana giornata di sport con rivalità che però è rimasta davvero nei binari della più assoluta correttezza. Possiamo andare a vedere dunque il servizio che è stato curato per noi da Roberta Di Sante. Il piatto forte della 28esima in Serie D, il derby più sentito tra le abruzzesi al Gran Sasso d'Italia, Itola Concia, va in scena l'Aquila-Avezzano. Bianco-verde Avezzanesi in campo con l'obiettivo di consolidare sempre più il terzo posto. Ennesima settimana travagliata in Casa Rosso Blu con il passo indietro della società e le dimissioni in blocco dei collaboratori che si prendono il proscenio. Ma il campo è un'altra cosa e ancora una volta squadra e staff tecnico dimostrano di voler onorare il campionato oltre le vicissitudini societarie. I Rosso Blu tornano in campo dopo 15 giorni di assenza dal calcio giocato. Battistini si affida alla coppia d'attacco Ibe-Padovani con Boldrini in cabina di regia. Gianpaolo perde sbardella in difesa al suo posto Tariuc ma recupera Deramo di ritorno dall'esperienza con la rappresentativa. Il primo acuto in avvio è Aquilano. Al settimo Boldrini sfonda sulla sinistra il doppio tentativo del numero 10 e la pronta risposta di Fanti. Nono minuto si accendono gli animi sugli spalti con l'ingresso a partite in corso degli oltre 200 tifosi giunti da Avezzano nel settore ospiti. Neppure è il tempo di sistemarsi e subito la gioia bianco-verde esplode quando Deramo pesca sul palo lontano Cerone. La coordinazione perfetta è la sfera che si insacca sotto l'incrocio. La reazione aquilana però non si fa attendere al quarto d'ora Caffiero pesca la testa di Padovani che spedisce incredibilmente fuori sul ribaltamento di fronte Pellecchia impegna Farroni. Le attese vengono rispettate. Le due squadre danno vita ad un derby emozionante ricco di occasioni e di botta e risposta dall'una e dall'altra parte. Col passare dei minuti l'Aquila prende le contromisure e alza il baricentro al diciassettesimo pasticcio in area vezzanese. Ibe si ritrova il pallone tra i piedi ma perde l'attimo e spreca. Due minuti più tardi Fanti si rifugia in corner sul diagonale di Padovani. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina Pupeschi di testa scheggia la traversa. Il meritato pareggio rosso-blu si concretizza al minuto 28. Corner di Boldrini e colpo di testa sotto misura di Ibe che spedisce la sfera tra le gambe di Fanti per l'1-1. La prima frazione si conclude ancora con un botta e risposta alla staffilata dalla distanza di Bianciardi. Risponde Boldrini ma Fanti ci mette la mano. Subito al cardiopalma la ripresa nemmeno un giro di lancette e l'Avezzano potrebbe riportarsi subito in vantaggio con Besana che se ne va per vie centrali costringendo Farroni al miracolo distinto. Al quinto Fanti colpito durante uno scontro di gioco in precedenza non ce la fa. Al suo posto a difendere i pali della porta avezzanese Lombardi che al dodicesimo in presa alta va a togliere letteralmente il pallone dalla testa di Padovani. Lo stesso che quattro minuti più tardi spedisce di poco a lato sulla punizione di Boldrini. L'Aquila fa tanto possesso palla. L'Avezzano gioca di rimessa ma proprio nel momento migliore dei rosso-blu l'Avezzano potrebbe fare il colpaccio. Al ventiseiesimo Cerone apre per Besana che rimette in mezzo per Dos Santos la botta a colpo sicuro con Farroni battuto ma Caffiero si immola sulla linea. Brividi al Gran Sasso d'Italia e non solo per il freddo. Lo spettacolo del derby continua e al trentaseiesimo la risposta aquilana a dell'incredibile. Flipper in azione prima Sieno poi Fabrizi centrano in pieno il palo per la disperazione dei tifosi di fede rosso-blu. La gara è molto corretta e gli animi si accendono solo nel finale a farne le spese al trentottesimo e mister Giampaolo che viene allontanato dalla panchina. L'ultimo sussulto di un bel derby giocato a viso aperto quando Boldrini se ne va sulla sinistra e scarica indietro per Padovani che però vanifica tutto spedendo alle stelle. L'Aquila e Avezzano bissano così il risultato dell'andata un 1-1 che consolida il terzo posto dei bianco-verdi e che ha i punti. Sta stretto ai rosso-blu aquilani capaci ancora una volta di tenere fuori dal rettangolo di gioco le vicissitudini societarie che lasciano alla cronaca un futuro incerto. Siamo all'altro derby, l'altro derby di giornata, ieri in Serie D, il pari tra Francavilla e Pineto, 1-1 il finale, Pineto si illude, il Francavilla la ciuffa, le reti sono state segnate nella ripresa. Iervese, buona prestazione, pomante, potevamo chiudere il match e dunque andiamo a vedere anche in questo caso le immagini della partita, il servizio curato per noi da Jacopo Forcella. Il derby del Valle Anzuca tra Francavilla e Pineto finisce in parità, gara decisa dagli ingressi dalle panchine e segnata dai giovani, Fiumara, classe 98 e Paravati, classe 2000, ad ennesima dimostrazione della qualità dei ragazzi presenti in categoria. Iervese recupera rispetto alla gara di Avezzano sia Baba Iussif in mediana a sinistra che Romeo in difesa che completa il terzetto con Di Cecco confermato al centro e Sembroni davanti Banegas e Alexic, in casa Pineto invece torna della Quercia, anche lui dopo il viareggio e Amaolo si affida al 4-2-3-1, Pezzotti scala in difesa mentre il 2000 di Renzo si piazza a sinistra del terzetto composto da Mariani e Ciarcelluti alle spalle di Tomassini. La prima conclusione benché velleitaria di Palumbo, il cui sinistro però non impensierisce Mazzocchetti, la risposta ospite nel mancino più pericoloso di Ciarcelluti dall'interno dell'area di rigore che Fargione disinnesca in maniera plastica. Al tredicesimo altra conclusione dalla distanza di Alexic, ma anche stavolta Mazzocchetti non ha particolari problemi nel controllo della sfera. Al ventesimo l'attraversione di Mariani trova la deviazione di Tomassini per nulla semplice, la torsione della punta è apprezzabile ma il pallone è debole. Per il resto accade poco o nulla, più Francavilla che Pineto, square però Guardinghe con poca voglia di scoprirsi troppo. A ridosso della mezz'ora botta e risposta ci prova Palumbo con la sventola alta sopra la traversa dopo la percussione personale. Il Pineto risponde un minuto dopo col piazzato di Pezzotti, una parabola mancina che sfiora l'incrocio dei pali con Fargione sorpreso dalla traiettoria. Al quarantunesimo Palumbo ha sul destro la punizione dal limite col Pineto intero a protezione della porta di Mazzocchetti, pallone che si infrange sulla parriera. Altro piazzato, stavolta al quarantaquattresimo di Mariani, conclusione tesa che filtra ma trova i guanti di Fargione a respingere la battuta con Marianeschi che non trova il tempo del tapin. La ripresa si apre alla quarto col bolide da posizione defilata di Baba Yussef che scalda i guantoni di Mazzocchetti attento nella respinta. Amaolo inserisce Fiumara per Marianeschi al cinquantatresimo e viene subito premiato tre minuti più tardi. Proprio dell'esterno destro infatti la diagonale è preciso a conclusione di un'azione tutta verticale, orchestrata da Mariani e finalizzata dalla neo entrato dopo il velo di Tomassini. Il Francavilla prova la reazione al sessantatresimo con Alexic, traversone che diventa un tiro che sfiora il palo destro di Mazzocchetti. I giallorossi di casa alzano il baricentro, gli ospiti si affidano alle ripartenze negli spazi lasciati dai peroni di casa. Al settantacinquesimo Fargione però deve superarsi su Gragnoli, è entrato da quattro minuti al posto di Tomassini. Il numero nove è bravo a superare Di Cecco, botta di destro all'estremo di casa e super a mettere la mano destra per deviare la conclusione. Il Francavilla preme a dieci dal termine sfiora il pari, Palumbo allarga per Molenda, traversone col contagiri per la testa di Alexic che impatta male dal limite dell'area piccola e grazie a Mazzocchetti. Al minuto 84 ancora Pineto, il corner di Pezzotti trova la testa di Esposito, arrivato in area a saltare, buono l'impatto, meno la mira del centrocampista. Pallone alto, altra mossa vincente dalla panchina, stavolta la sfodera Iervese che all'ottantacinquesimo inserisce la classe 2000 Paravati. Nel meno 60 secondi e Banegas penella la traversone proprio per la testa del giovane attaccante che trova il primo gol in campionato. Il Francavilla ormai con quattro punti ci crede e cerca il successo che però dall'altra parte sfiora il Pineto con Gragnoli che gira in maniera prepotente il servizio di Esposito nel centro dell'area di rigore e trovando però ancora la risposta di Pargione. Finisce 1-1 il risultato, probabilmente scontenta entrambe perché la rincorsa playoff si fa complicata per le due squadre e i rispettivi impegni di giovedì contro il Matelica per il Francavilla e contro l'Agnonese per il Pineto sembra avranno il compito di regalare una Pasqua migliore alle due formazioni. E prosegue il momento tutt'altro che positivo per la Vastese, Vastese sconfitta in casa dell'Olimpia Agnonese quarto posto a rischio al 91esimo rompe il silenzio stampa il tecnico aragonese Gianluca Colavitto che parla di terreno di gioco indegno. Dunque 2-0 per i molisani, Vastese che resta al quarto posto ma che vede avvicinarsi ulteriormente le dirette concorrenti. Andiamo a vedere dunque il servizio su questa battuta d'arresto dei biancorossi. L'Olimpia Agnonese batte la Vastese per 2-0, un match davvero intenso quello disputato al Civitelle con i padroni di casa che sbloccano subito il risultato e anche se compiono errori clamorosi non sono mai davvero in pericolo se non in rare occasioni. Ma andiamo alla cronaca, il primo giro di lancette e arriva il primo sussulto con Santoro che a tu per tu con il numero 1 abruzzese non riesce a spuntarla. Al quinto la Vastese ha una buona occasione con Fiore su calcio di punizione ma la palla finisce al lato di poco. Siamo al settimo e il risultato cambia grazie a un calcio di punizione battuto da guerra che Corbo tocca per infilare dritto in rete ed è 1-0 per i Granata. Al diciottesimo è ancora Fiore a farsi pericoloso ed è a un passo dal pareggio ma Faiella è bravo a intercettare la sfera. Al ventottesimo ci prova Madì ad allungare le distanze ma non inquadra lo specchio della porta. Al trentatreesimo è Ceria che sgancia un bolide dalla distanza ma Camerlengo si fa trovare pronto. Al quarantasettesimo torna all'attacco l'insidioso Fiore che illude ma la palla è fuori. Sul vantaggio dei padroni di casa dunque si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo nella ripresa. Il tono cala e per i primi dieci minuti ci annoiamo. Fino al decimo appunto quando Bittaye si gira in un tiro velenoso che Faiella è bravo a deviare in angolo. Due minuti dopo ancora abruzzesi protagonisti con Fiore che tenta un colpo ma nemmeno troppo convinto tant'è che Faiella intercetta con facilità. Scocca il quarto d'ora e Frabotta viene atterrato in area da Maronilli. Per il direttore di gara Zucchetti della sezione di Foligno non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Corso che clamorosamente sbaglia. Siamo al diciassettesimo e Cerase cerca il riscatto sfiorando quasi il palo e il raddoppio. Così come ci prova guerra al ventunesimo ma Camerlengo è pronto a deviare in corner. Al venticinquesimo servito da Cerase avanza tutto solo Santoro e a tu per tu con il numero uno ospite riesce a beffarlo insaccando il gol del 2 a 0 senza alcuna difficoltà. A questo punto l'Agnone amministrerà il doppio vantaggio fino alla fine del match in maniera serena senza grossi scossoni mentre l'Avastese pur accelerando il ritmo non riuscirà a trovare occasioni per accorciare le distanze. La partita si chiude con questo tiro di Litterio che Camerlengo però intercetta. Bella questa prova dei padroni di casa che sulla scia di risultati positivi sta cercando il proprio riscatto e soprattutto di allontanarsi dalla zona play-out. L'Avastese che occupa un signor posto in classifica se ne torna a casa con il rammarico di una prestazione da cancellare. Siamo al San Nicolò, non è andata meglio la formazione di Montani perde il recrimina con la Re Canatese terza sconfitta consecutiva sul sintetico del Orsini di Giulianova il bomber Pera decide la sfida salvezza in favore dei marchigiani e dunque San Nicolò che si lecca le ferite per questa battuta d'arresto. Possiamo andare a vedere dunque anche in questo caso le immagini il servizio curato da Stefano Re Canati. Lo scontro salvezza della ventottesima giornata al Tiberio Orsini di Giulianova se lo aggiudica con il punteggio di 1-0 la Re Canatese a cui basta un gol dell'ex Tarantopera nel primo tempo. Montani, dopo il pareggio di Pesaro, recupera gli squalificati Bagallini e Mozzoni e schiera i suoi con il consueto 4-3-3 con Massetti sulla sinistra e in attacco il tridente formato da Tiboni, Giampaolo e Liguori. La Re Canatese, dopo la roboante e convincente vittoria sul Castelfidardo e con una squadra totalmente stravolta dopo il girone di andata si schiera con il 4-4-2 con la coppia d'attacco Pera e Falomi e proprio Pera al settimo minuto fallisce il gol del vantaggio. Lunardini su punizione chiama lo schema con Olivieri che pennella una palla d'oro per Pera che di testa mette sul fondo. Il San Nicolò cerca di fare possesso palla ma al quindicesimo ci prova ancora la Re Canatese ma il colpo di testa di Nodari è debole e facile presa di Cannella. Al diciassettesimo arriva la risposta del San Nicolò. Sfondamento centrale di Cala che serve un pallone d'oro a Tiboni ma il gigante è buono solo davanti a Piangerelli non aggancia con il risultato che resta invariato. Al ventiquattresimo si fa vedere ancora la squadra di Montani ma il tiro di Cala dei 30 metri non inquadra lo specchio della porta. Pochi secondi e sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio a ospite con Pera che raccoglie un falo laterale, stop orientato e di destro trafigge sul palo lungo l'estremo di casa. Inizio di ripresa subito con Moretti in campo per la squadra di Montani al posto di Tiboni e inizio più propositivo per la squadra di casa. Al terzo ci prova Liguori ma il suo tiro si perde sul fondo. Al quarto d'ora ancora il San Nicolò che con Massetti sfonda sulla sinistra con un'azione personale ma il suo cross in mezzo è preda di Piangerelli. 30 secondi e stavolta è il neo entrato Moretti che raccoglie una sponda di Giampaolo ma da centro aria non inquadra. Il San Nicolò spinge e Giampaolo ci prova con un tiro dalla distanza. L'intervento di Piangerelli non è perfetto ma per sua fortuna e della Re Canatese la palla sorvola la traversa e si spegne in calcio d'angolo. Da qui alla fine della gara nient'altro, solo alcuni cambi per entrambe e una decisione di contropiede della Re Canatese che si ora in due circostanze, il raddoppio con Pera e Lunardini. Su quest'ultimo ottimo l'intervento di Cannella. Dopo quattro minuti di recupero finisce la gara con il San Nicolò che avrebbe meritato sicuramente un pareggio per quanto visto nel secondo tempo. Re Canatese che di contro con la vittoria si allontana dalla zona calda della classifica. Nerostellati niente miracolo con la vicecapolista Vispesaro a Sulmona, Camponeutro, i marchigiani passano con il risultato di 3-0. Siamo al calcio a 5, Acqua e Sapone da urlo, 3 gol per la gloria abbattuti gli storici rivali della Luparense. Lima alza la Coppa Italia, Mammarella si conferma, Saracinesca. Vittoria dunque davvero di prestigio per l'Acqua e Sapone che si aggiudica la Coppa Italia nella sfida, nella finalissima disputata a Pesaro. Complimenti alla squadra del presidente Barbarossa. Siamo al rugby, l'Aquila, Coregambes, Banca, Benevento, 25-21 per i ragazzi del tecnico Rotilio. Perde invece in casa il Gran Sasso con il Cus Perugia che si aggiudica il match per 37-15. Andiamo a vedere anche le pagine relative al basket con l'importantissima vittoria di Roseto che si fa grande, Sten Mantova per 104-98, vittoria al Cardiopalma dopo un supplementare e un equilibrio incredibile. Pala Maggetti impazzito di gioia, ora Roseto a 4 punti di vantaggio su Orzi Nuovi di Paolo Antonio. Cammino duro, bisogna migliorare, il tecnico dice ogni tanto ci affidiamo troppo alle iniziative personali, dobbiamo giocare insieme, ma la vittoria con Mantova è importantissima. La Serie B di Pallacanestro, l'amatori fa su il derby e consolida il quarto posto, 70-56 su Giulianova. Il Campli perde in casa per 72-59 con Bisceglie, perde anche se con onore il Teramo a Sansevero per 78-71 con in panchina i due coach nuovi dopo l'esonero di Bianchi, di Francesco e Gramenzi e torna invece al successo Ortona che batte in trasferta 81-75. Cerignola ciclismo, Ferrito concede il bis al trofeo della ventricina di Scerni e vince questa importante manifestazione. Chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Colpo rosso, genialata della Ferrari, gran premio primo della stagione con vittoria di Fettel che trionfa in Australia e poi il Corriere dello Sport. Vedete sole rosso, Ferrari spettacolo nell'apertura del Mondiale di Formula 1 in Australia a Melbourne. E poi lo sceicco Antonio, il Paris Saint Germain degli Emiri si prepara a coprire d'oro conto offerto un contratto pazzesco di 11 milioni a stagione. E poi un richiamo che riguarda la Serie B, il Palermo delle Meraviglie, Poker al Carpi, Tris Coronado, Salerni Tana Show, Pari Perugia. Chiudiamo con tutto sport, grande rossa, non fermarti più. La vittoria di Fettel nel primo gran premio della nuova stagione. Poi canta Sesseni, il portiere della Juventus, intervista in esclusiva di tutto sport all'estremo difensore della formazione bianconera. E poi svolta Toro a Cagliari con il 3-5-2. E poi per Spalletti, Strotman e il regalo per un eventuale piazzamento champion della formazione nerazzurra. Milan, Mirabelli in pressing sul coreano. Chi, infine Napoli, Simone Inzaghi in Pol, se Sarri non dovesse rinnovare il contratto. Siamo giunti al termine del primo appuntamento della settimana con Mattino 6. Nostra consueta rassegna stampa che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.